12 appuntamenti, 10 comuni, 6 ballate, un'estate assolutamente intensa, il concerto di Madame al Colle di Valmala nel comune di Busca il 24 di giugno, poi avremo l'8 luglio di Eugenio in Via di Gioia a Piamonè di Paesana, 20 luglio Umberto Totti a San Fronte con Gloria Forever e il 30 luglio infine il viaggio Antonacci chiuderà il proprio tour, poi pausa per la parte centrale di agosto, torneremo il 27 di agosto a Montoso di Bagnolo, 29 agosto a Lagnasco nel Castello con i tre ligni, il 3 settembre, Saluzzo, una giornata dedicata alla storia della canzone italiana, 100 anni di storia per coro e orchestra e la gran chiusura poi a fine novembre, il 25 novembre nella chiesa cattedrale di Saluzzo con il coro dei polifonici del Marchesato che sono tra l'altro gli organizzatori di tutto questo grande evento insieme all'orchestra Bruni con l'esecuzione dello Stabat Mater di Jenkins.